Siamo davanti al monoblocco, quello che è stato per decenni l'ospedale di Carrara e dei Carrarini, oggi per buona parte vuoto e inutilizzato. Noi proponiamo la difesa del diritto a una sanità pubblica, gratuita, funzionale e vicina alle esigenze dei cittadini. Stop agli sprechi e fuori partiti dalla sanità. Autore dei sottotitoli a cura di QTSS